Proviene dall'archivio dell'Ateneo di Trieste la lettera inedita dello scrittore triestino Italo Svevo che è stata presentata nel convegno svolto al Castello di Miramare dedicato ai sistemi museali. È interessante perché compendia l'esperienza sveviana presso la Scuola Revoltella e è strutturata come una sorta di curriculum, è molto simpatica per questo. La scoperta si deve all'iniziativa di digitalizzazione di documenti organizzate in occasione del centenario dell'Università, un'operazione che consentirà di rendere più accessibile il suo ingente patrimonio culturale composto dalla quadreria, l'erbario storico con la collezione di lichene unica al mondo, la collezione mineralogica e la collezione canizza e che conta decine di migliaia di documenti. Speriamo di, come si dice oggi, rilasciare il progetto e la digitalizzazione di alcune migliaia probabilmente è una cifra attorno ai 40 e 50 mila documenti entro settembre e ottobre di quest'anno. Il centenario dell'Ateneo sarà poi celebrato anche con una serie di iniziative, dalla nuova veste grafica del sito e dei percorsi virtuali che ne raccontano la storia, fino ai profili e alle opere del suo corpo docente, al suo capitale culturale.